Salve a tutti e ben ritrovati alla video intervista di Radiobombo che questa settimana si occupa di Polizia Municipale e d'intorni con l'assessore al ramo Giuseppe Paolillo che ringraziamo per essere ospite in studio. Benvenuto assessore. È un piacere, grazie. Grazie a lei. Allora, partiamo proprio dalla stretta attualità perché siamo a ridosso della festa dei 150 anni dell'Unità Nazionale ma anche e soprattutto a metà di quel mese di marzo nel quale è stato detto che la Polizia Municipale avrebbe riassunto i 19 agenti a tempo determinato. Qual è la situazione al momento? È vero che riassumeremo i 19 agenti a tempo determinato. Purtroppo abbiamo dovuto risolvere alcuni problemi. Alcuni degli operatori di Polizia Municipale che hanno già espletato servizio presso il Comune di Trani o hanno già raggiunto oppure raggiungeranno in costanza di rapporto i 36 mesi fatidici dell'ultimo quinquennio e quindi non potremmo di regola assumerli. Purtuttavia è consentita una deroga. A fronte di ciò, proprio ieri mattina, sia il dirigente al personale che la signora Piccolo, funzionario al settore personale del Comune di Trani, sono andati alla Direzione Provinciale di Lavoro proprio per concordare la procedura di deroga, considerando che saremmo il primo comune, il primo ente pubblico ad avvalersi di questo tipo di deroga. Fino ad ora è stata fatta solo attraverso le associazioni Confindustria, quindi solo attraverso società private e mai nessun ente pubblico aveva adottato e ha adottato questo tipo di procedura. La deroga in cosa consisterebbe? La deroga consiste nel fatto che pur se gli operatori a tempo determinato hanno già raggiunto o raggiungeranno i 36 mesi, si può concordare una nuova assunzione che non pregiudica il diritto all'eventuale loro risarcimento del danno. Per fortuna non c'è più la possibilità di tramutare in tempo indeterminato l'eventuale assunzione illegittima del contratto a tempo determinato, però gli operatori avrebbero la possibilità di adire le vie giudiziarie per ottenere un risarcimento del danno. Se si va in deroga questo non sarà possibile per loro e quindi il Comune tutelerà la propria immagine. La deroga permetterebbe quanti ulteriori mesi di servizio a queste persone? La deroga permetterà l'assunzione dei vigili a tempo determinato per un periodo di 12 mesi, stiamo predisponendo un progetto e un programma ad hoc che durerà appunto 12 mesi. E che quindi potrebbe di fatto coprire tutto il resto dell'anno e anche qualcosa di più. Quali sono i progetti? Quando partireste a questo punto? Dovremmo partire al più presto, il progetto è pressoché pronto, dovremmo partire subito perlomeno con quegli operatori che non raggiungeranno comunque i 36 mesi anche a fronte di questo progetto. Perché ci sono alcuni agenti a tempo determinato che hanno maturato solo 14-12 mesi di servizio. Quindi pur con i 12 mesi di progetto non raggiungeranno mai i 36 mesi. Quindi questi possono già partire. Gli altri partiranno non appena, tempo tecnico, penso una settimana, avremmo la possibilità di andare in deroga. Quindi la scadenza di marzo sarà in ogni caso rispettata? Li vedremo già entro fine marzo operativi? Penso proprio di sì. Bene, e questo già rappresenta un sollievo perché sappiamo bene quanto ormai la Polizia Municipale dipenda da questi operatori a tempo determinato. Senza di loro in questo momento ci sono meno di 30 unità sul campo e non ce la si fa? Assolutamente no. Mi scuso a nome mio, a nome dell'amministrazione, con tutti quei cittadini che giustamente reclamano la presenza del vigile, reclamano più controllo, condizioni di sicurezza, viabilità, uscita dalle scuole. Proprio tu sei uno di quelli che giustamente si è soffermato più volte sulla mancata presenza del vigile all'uscita delle scuole. Veramente mi dispiace perché purtroppo questa è una situazione che è frutto di 20 anni di mancate assunzioni. È chiaro che se lo Stato vuole che il trend della spesa del personale vada sempre decrescendo, non si può ad ogni pensionamento non assumere una o altre unità. Siccome questo è stato fatto purtroppo negli ultimi 20 anni, nel senso che ad ogni pensionamento non sono corrisposte altrettante o anche meno assunzioni, questa è la situazione adesso che veniamo ad affrontare. Ma è una situazione che paradossalmente si è complicata anche con la mobilità, perché erano stati assunti alcuni vigili con il criterio della mobilità, loro hanno credo la precedenza dal punto di vista amministrativo, eppure si sono un po' persi strada facendo. Cosa è successo? La mobilità comunque non avrebbe risolto il problema, anche perché avevamo avuto in dotazione sette unità. Tre unità hanno richiesto ed ottenuto la mobilità verso altri enti, e quindi adesso siamo con tre unità di mobilità. Un'unità è in maternità e quindi giustamente non potrà espletare il proprio servizio, ma ripeto, la mobilità non avrebbe risolto di certo il problema. Sì, sette unità ci avrebbero permesso di fare qualcosa in più, ma non più di tanto. Pertanto, se la situazione è questa, come si può in ogni caso affrontare la quotidianità? Il fabbisogno sappiamo che gli 80 vigili, in questo momento ce ne sono meno di 30, con i 19 che tornerebbero, arriveremmo poco più della metà del fabbisogno. Come si fa? Io spero che le norme in materia di stabilizzazione possano cambiare. Se cambiano, allora potremmo avere, grazie alle unità a tempo determinato, una vera boccata d'ossigeno. Altrimenti non so veramente come potremmo fare. La situazione è andrea, anche perché consideriamo che quelli che potremmo chiamare i vecchi vigili, fra 5-6 anni andranno in pensione, e fra 5-6 anni sarà ancora più dura. Tra l'altro però si parla di possibili assunzioni a tempo determinato con i proventi delle contravenzioni. Questo comunque non andrebbe a incidere in positivo sui 19, nel senso potrebbero essere assunte altre persone oltre quelle, oppure è soltanto una disponibilità finanziaria e basta sempre invitata a quelle persone? Hai detto bene, è solo la disponibilità finanziaria che non grava sulla spesa del personale del comune, bensì sui proventi delle sanzioni al codice della strada. Il problema però è che nel frattempo la città ha acquisito una certa fisionomia, il centro storico si sta sempre più chiudendo alla circolazione, ma per tutelarlo bisogna anche controllarlo. Le immagini di domenica sera con addirittura l'area pedonale invasa dalle auto parcheggiate evidentemente fa capire che senza un controllo probabilmente non è possibile autogestirsi. È chiaro che c'è molto di inciviltà, ma di fatto se ci fosse più controllo questa sarebbe in qualche modo frenata. Sì Nico, non voglio fare discorsi per carità, di civiltà in civiltà non ne farò assolutamente. È chiaro come ho detto prima che la gente giustamente reclama il controllo che non c'è. Abbiamo anche interessato la Capitaneria di Porta, ho visto le immagini, le foto che sono apparse su diversi siti quanto alla questione di sabato sera. Abbiamo alertato la Capitaneria di Porta affinché ci dia una mano. Vorremmo eventualmente chiudere quel tratto di banchina, ma il problema non è solo quello, il problema è tutta l'area portuale. Io non sono uno di quelli che è rinchiuso e rintanato in casa. Io la città per fortuna la vivo e so cosa succede sabato sera o venerdì sera a mezzanotte o a luna sull'area portuale. Per cui probabilmente proprio l'area portuale dovremmo abituarci a vederla completamente chiusa al traffico. E da questo punto di vista le telecamere, che spero riusciremo a mettere al più presto possibile, ci daranno una mano. Se non c'è controllo fisico, possono venire incontro molto gli strumenti. Varchi elettronici, pilomat, telecamere. Qual è il piano che avete soprattutto per l'area portuale? Perché non dimentichiamo, con l'avvento di piazza Quercia interamente pedonale e con la basolatura di tutto il tratto che va da piazza Prebiscito fino alla stessa piazza Quercia fino a via Zanardelli probabilmente già abbiamo una buona porzione dell'area portuale interamente pedonizzata. Ma quali sono i progetti tecnici? Il progetto che riguarda l'area portuale del centro storico prevede l'installazione di telecamere rilevatrici dei numeri di targa. Per cui l'accesso sarà consentito solo ai residenti, operatori commerciali e aventi diritto. E' chiaro che poi l'accesso, quindi la ZTL del porto e del centro storico potrà essere modulata. Si potrà fare d'estate, si potranno scegliere gli orari, non farla d'inverno. Questo poi chiaramente sarà rimesso alla nostra scelta, modulare la chiusura al traffico dell'area portuale. Quello che dico è che dovremmo abituarci ad andare un po' di più senza auto. Da questo punto di vista però mi rendo conto che il cittadino si lamenta del fatto che a Trani ci sono pochi parcheggi. E di questo ha perfettamente ragione. E' una piaga incredibile quella dei parcheggi nel comune di Trani. Purtroppo il parcheggio della stazione ha avuto i suoi problemi, dovrebbe ripartire al più presto. Però stiamo pensando altrettanto di creare giustamente altre aree di parcheggio per il cittadino. Ma non solo per il cittadino, ma anche per l'abitante dei paesi limitrofi che l'estate viene a Trani. A proposito di parcheggi, quelli a pagamento stanno per arrivare. Intanto a partire da quando? A partire, penso da subito. Le condizioni meteorologiche sono l'unico problema. Nel senso che fino a quando abbiamo queste condizioni meteorologiche avverse, pioggia e freddo, non si possono tracciare le strisce in maniera adeguata. L'AMET so che, almeno per quello che mi risulta, ha segnato la procedura di pitturazione e quindi dovrebbe partire al più presto. Sono quasi 1900 stalli, abbastanza prossimi al centro storico e con prezzi abbastanza anche sostenuti che dovrebbero scoraggiare tanti dal prendere l'auto. Possono bastare a risolvere il problema? Spero che non sia questa la chiave di lettura, nel senso che la tariffa non è stata, spero e penso, parametrata sul fatto che si debba scoraggiare l'uso dell'autovettura. L'uso dell'autovettura deve essere scoraggiato di per sé, cioè per il solo fatto che non riusciamo a trovare posto, per il fatto che comunque dovremmo cercare di pensare anche all'inquinamento atmosferico e non perché le tariffe sono esagerate o eccessive. Spero che non lo siano, io almeno quando andiamo in altri comuni le tariffe sono più o meno le stesse, non sono quei centesimi in più o in meno che possono incoraggiare o scoraggiare l'utente a usare o non usare la macchina. A proposito di parcheggi, invece all'area La Pietra è in via di ultimazione un parcheggio nell'area dell'hangar, peraltro salvaguardata dal punto di vista della struttura esterna. Avete pensato con i proprietari di utilizzare una quota a parte di quel parcheggio, soprattutto perché si trova in un punto veramente importante in cui giungono a trani praticamente da tutte le direzioni? Ci abbiamo pensato, però è solo un'ipotesi, vediamo quando i lavori saranno in fase di completamento, vediamo come poter utilizzare quell'area, sempre chiaramente che vi sia il consenso del proprietario, dovremo chiarire i termini e condizioni. E' chiaro che è un'area che può essere sfruttata, se abbiamo la possibilità cercheremo di farlo. Anche perché crediamo se ne sia parlato in Consiglio Comunale all'epoca dell'approvazione del piano urbanistico esecutivo in quell'area. Tornando invece alla questione di Piazza Quercia e del tratto in basolato che sarà realizzato nelle sue adiacenze, la notizia collegata dovrebbe essere quella dell'inversione di marcia di via Cavour, giacché via San Giorgio resta interamente pedonale ovviamente. E' confermato e quindi questa decisione sarà assunta nel momento in cui partiranno i lavori di basolatura di via Statuti Marittimi? Non proprio, nel senso che l'inversione del senso di marcia di via Cavour era una delle soluzioni. Il problema è che il rovescio della medaglia dell'inversione del senso di marcia di via Cavour è quella che all'altezza dell'incrocio con Piazza della Repubblica, via Aldomoro e via Mario Pagano si creerebbe un afflusso importante di veicoli, cioè i veicoli che provengono da via Aldomoro, da via Mario Pagano, da via Cavur e quindi questo afflusso notevole di veicoli potrebbe creare qualche problema. Quindi l'inversione è in fase di studio, non è detto che si faccia, anche perché comunque per raggiungere l'area portuale si potrebbe utilizzare via Ogni Santi. L'inversione del senso di marcia di via Cavur è finalizzata non soltanto dalla chiusura del porto quanto piuttosto dal fatto che percorrere via Cavur come attualmente adesso si percorre ha l'unica finalità di arrivare alla villa, anche perché poi si potrebbe percorrere solo quel piccolo tratto di lungomare che dal mio modesto punto di vista non ha senso. Ha più senso, secondo me, favorire l'utente, l'automobilista che venendo dal lungomare trova valvola di sfogo in via Cavur e quindi esce dal centro città verso la periferia. Si potrebbe pensare in ogni caso per chi arriva da via Aldomoro a una svolta obbligatoria a destra nella prima traversa della piazza, passando dinanzi al Palazzo Galleria. In quel caso si alleggerebbe un po' l'intasamento in quell'incrocio. Ti dico di più, si potrebbe anche pensare di tenere via Aldomoro ad un solo senso di marcia favorendo due aree di parcheggio e senso di marcia ad uscire verso Biceglie. È anche una delle idee allo studio. Parliamo invece di quello che accade intorno a Piazza Longobardi, perché anche lì cambieranno parecchie cose dopo la realizzazione della nuova piazza. Piazza Longobardi, sì, verrà intercluse in due sensi di marcia, per cui si arriverà solo in Piazza Sant'Oma e invece sarà percorribile via Ogni Santi unicamente, quindi non si potrà fare più il cosiddetto vecchio giro della piazza e non si potrà più raggiungere da via Ogni Santi via Mario Pagano. E questa è un'altra notizia che dovrebbe in qualche modo indurre gli automobilisti a girare un po' a largo dal centro storico. Potrà bastare? Io non so se potrà bastare. Mi rendo conto che le esigenze degli automobilisti sono le più svariate. Io chiedo solo se è possibile utilizzate meno l'auto, se è possibile. È chiaro che mi si potranno opporre diecimila motivi per cui si debba necessariamente usare l'auto. Ripeto, e sono d'accordissimo con tutti quei cittadini che lamentano la scarsità dei parcheggi. Dico solo che se è possibile evitate. I commercianti di volta in volta poi protestano quando si chiudono le aree, però alla lunga chi fa più affari sono proprio i commercianti e le aree pedonali. Cosa possiamo dire loro? Io raccolgo sempre le istanze dei commercianti, anche unitamente all'assessore Scagliarini. Abbiamo rivisto una nostra idea di pedonalizzazione di un tratto di strada di via Mario Pagano. I commercianti sono venuti da noi, ci hanno chiesto di rivedere le modalità, lo abbiamo fatto. Adesso come funziona? Adesso dalle 18 in poi è pedonabile quel tratto di strada, fino alle 18 è carrabile. Vorrei sapere però, solo per curiosità, se effettivamente, come mi auguro, le entrate dei commercianti siano aumentate oppure no. Auspico che ciò sia avvenuto, però se così non dovesse essere, vuol dire che non è la pedonalizzazione a influire sulla redditività di un'attività commerciale. Forse sono altri fattori. Comunque, se il nostro ravvedimento può aver contribuito a migliorare la situazione dei commercianti in un periodo di crisi come questa, benvenga, assolutamente. Per finire su circolazione d'intorni, torniamo ai varchi elettronici previsti alle porte del centro storico, soprattutto sull'area portuale. Quando potrebbero essere installati e quando quindi partirebbero? È in fase, è in dirittura d'arrivo, la predisposizione e l'elaborazione di una perizia tecnica. Non appena viene depositata questa perizia tecnica si può partire subito con il bando di gara. Dovrebbe durare 30 giorni. Io spero di farcela entro il mese di maggio. Spero. Invece per quanto riguarda la videosorveglianza, all'epoca dei fatti via San Giorgio furono annunciate poi nuove telecamere, piazza Gradenigo, la stessa via San Giorgio e quant'altro. Come procede l'iter? C'è un sopralluogo questa mattina. Capitano Ruggero è il responsabile del settore tecnico dell'AMET. Saranno affissi a visi pubblici, con riferimento al fatto che le telecamere verranno installate su edifici privati e penso che entro la settimana prossima dovrebbero essere tutte installate. Come avevo già preannunciato, sono in arrivo ulteriori circa una quindicina di telecamere con il PON Sicurezza. Altre 4-5, quelle di cui parlavamo prima, le abbiamo installate a spese del Comune. C'è un altro progetto, PIT2, con capofile al Comune di Andria, che prevede l'installazione di circa una decina di telecamere su tutta l'area del Lungomare. Non vogliamo, come qualcuno ha detto, fare della città di Trani una sorta di grande fratello. Vorremmo soltanto che la telecamera riuscisse a migliorare il servizio al cittadino, a rendere più sicura la nostra città, solo questa è la nostra motivazione. E anche a fare da deterrente. E a fare da deterrente, certo. Per esempio, nelle aree dove stanno per sorgere i cosiddetti parcheggi delle biciclette bike and sharing, ci sarà sempre una telecamera di copertura? Assolutamente sì. L'unico punto attualmente privo di copertura con telecamera è il piazzale Marina d'Italia, Colonna, dove verrà installata la telecamera con il progetto PON Sicurezza. Gli altri tre siti sono assolutamente coperti da telecamera. Bene, adesso vediamo qualche altro servizio della Polizia Municipale, di cui si è parlato molto, anche se abbiamo la sensazione che ogni tanto i servizi partano davvero con tanto vigore e poi, anche e soprattutto a causa della carenza umana, si affievoliscano. Cominciamo dalla rimozione dei cartelloni abusivi. Ci sono state almeno 5-6 uscite, parecchio materiale è stato rimosso, parecchio è ancora lì. Parecchio è ancora lì, parecchio è da rimuovere. Qualche ulteriore installazione pubblicitaria l'ho vista spuntare dalla sera alla mattina e di questo ho già scritto al dirigente. Assolutamente no, sono le installazioni pubblicitarie abusive, quelle che, ripeto, sorgono dalla sera alla mattina e di cui te ne rendi conto solo quando le vedi. Ho già segnalato al comandante, le contravenzioneremo, poi chiaramente dovremo provvedere anche ai relativi tagli. Quanto costa questo servizio? Perché ha un costo, sappiamo che l'impresa Scaringi che si è messa molto spesso a disposizione, ma non credo che possa sempre lavorare gratis per la polizia municipale. Quanto costano questi servizi? Infatti fino ad oggi mi sa che lo ha fatto, nel senso che fino ad oggi l'impresa Scaringi è andata a recupero, nel senso che è andata a tagliare gli impianti previo poi avvio della procedura di recupero nei confronti dell'installatore abusivo. è chiaro che il servizio costa. Io adesso la determino non è dalla nostra ripartizione, è dalla ripartizione ragioneria, però se non ricordo male era stata stanziata una somma di 30.000 euro, qualcosa del genere. Marcia a piedi puliti, questa è l'altra operazione che la polizia municipale aveva avviato con successo. multe in serie su auto, soprattutto parcheggiate con due ruote o anche di più sui marci a piedi. Anche di questa non abbiamo più avuto notizie puntuali come prima. Perché come hai detto prima, quando non abbiamo gli uomini non possiamo procedere. Sicuramente è una delle cose che rifarò, senz'altro, ma più che altro per cercare di dare anche un'immagine visiva al cittadino, nel senso che comunque vogliamo che la nostra presenza sia avvertita. È chiaro che mi si può obiettare il fatto che l'azione potrebbe risultare oltremodo vessatoria e di questo me ne rendo conto. Però non vorrei che il fatto di usare il carattrezzi che può avere un'immagine e un'efficacia deterrente debba essere poi mal interpretato. Cerchiamo di non parcheggiare le macchine con due ruote sul marciapiede, cerchiamo di non incorrere nella sanzione. Noi non useremo il carattrezzi. C'è stata anche un'iniziativa all'inizio dell'anno, se non ricordo male, che ha visto scendere in campo tre persone con diverse abilità a sostegno del vostro lavoro. Come sta procedendo questa iniziativa? L'iniziativa chiaramente ha avuto un periodo sperimentale di circa un mese. Penso che la riproporremo. La riproporrò però con modalità diverse, nel senso che non mi è piaciuto, dico molto sinceramente, non mi è piaciuto tanto vedere il disabile accompagnato dal vigile. Non era quello il servizio che io avevo in mente. Io avevo in mente un servizio durante il quale il disabile doveva circolare tranquillamente per la città e solo nel momento in cui c'era una situazione di intralcio alla sua circolazione, doveva avere un canale preferenziale con la polizia municipale, l'intervento doveva essere il più celere possibile. Vedere accompagnare il vigile al disabile non l'ho condiviso tanto. Di questo ho avuto anche conforto proprio con il responsabile. Sembrerebbe una strumentalizzazione dell'handicap. Sì, dell'handicap e della disabilità, cosa che assolutamente non voglio. E peraltro, come qualcuno mi ha obiettato, non è solo quella la finalità che ci eravamo preposti. Tant'è che durante il prossimo progetto entreremo anche nelle scuole. Noi vorremmo educare, sensibilizzare e non reprimere. Non ci interessa l'attività di repressione. Sì, è vero, qualcuno ci può dire che facciamo cassa facendo repressione, ma non è questo quello che vogliamo. Anche perché noi fondamentalmente cerchiamo il consenso politico e sicuramente il consenso politico non lo otteniamo facendo le multe alla gente che poi ci deve votare. Quindi non è questo quello che vogliamo. Parliamo anche di viabilità perché intorno al nuovo svincolo di Via Istria si è fatto un gran parlare e ancora oggi, il momento in cui realizziamo questa intervista, i lavori non sono conclusi. Tra l'altro cominciamo dalla curiosità relativa alla vasca. Perché è stata riempita di terrapieno? A questa domanda non so risponderti, dovresti farla all'ufficio tecnico perché sinceramente non mi sono assolutamente interessato del progetto della vasca. So che vengono due fontane, ma più di questo non so cosa dire. Invece per quanto riguarda la viabilità? Per quanto riguarda la viabilità, io come ho detto anche in una riunione che abbiamo tenuto all'ufficio tecnico, vorrei cercare di capire se effettivamente la situazione così com'è funziona o no. Probabilmente necessita di correttivi, anch'io da automobilista, quindi non da assessore, ma da semplice utente della strada, verifico qualche anomania. A questo si può porre rimedio, nel senso che probabilmente qualche segnaletica va invertita. Non faccio fatica a dire che effettivamente chi scende da Corato, chi sale il cavalcavia verso Corato, non so fino a che punto è giusto che abbia il dare precedenza. Avverte una sensazione di precedenza che invece deve dare. Non c'è una legge fissa, nel senso che quella non è una rotatoria a tutti gli effetti, ma è uno svincolo. Per cui i criteri cardini della rotatoria, cioè che sono quelli relativi al fatto che chi sta nella rotatoria deve avere assolutamente precedenza, non so se possono essere applicate alla lettera. Abbiamo parlato, io e l'assessore di Savino, qualche giorno fa, anche con un responsabile ANAS, di un responsabile di circolazione stradale, il quale ci ha detto provate, nel senso che quel tipo di circolazione va calibrata sulla base dei flussi di traffico. Non potete fare una segnaletica, adottare una segnaletica a prescindere. Valutate i flussi di traffico, ecco perché comunque pur cantierizzata l'abbiamo aperta la circolazione e vediamo come va. Per quanto riguarda l'altezza dei cordoli è ormai definita o si interverrà anche su quelli? L'altezza dei cordoli, se la strada garantisce il passaggio anche all'auto articolato, il cordolo va bene che sia alto perché la valicabilità del cordolo è relativa al fatto che può aumentare lo spazio della careggiata. Se lo spazio della careggiata è sufficiente, non serve abbassare il cordolo. Poi, ripeto, anche questo, se dovesse servire, penso che si farà. L'ufficio tecnico si è messo a completa disposizione, però ripeto, penso e spero che sia stato studiato con i dovuti criteri. Allora, torniamo invece al servizio reso dalla Polizia Municipale per le strade, perché un altro suo cavallo di battaglia è spesso oggetto di tante proteste, anche per la verità molta emagogia, è quello delle deiezioni canine. Anche in questo caso i risultati sono veramente minimi rispetto ai propositi. Assolutamente sì. Devo riconoscere che purtroppo la situazione di qualche punto della città è ancora critica. È un servizio difficile, come tutti possono immaginare, nel senso che veramente bisognerebbe nascondersi o seguire il cittadino che porta a passeggio il cane per verificare quando e se il cane compiere il bisogno. È un servizio molto particolare. Più di qualche contravenzione l'abbiamo fatta. Poi anche questo è rimesso al senso civico, all'educazione. Perché molte volte capita di vedere che se colui che accompagna il cane si trova da solo, prosegue. Se invece si sente osservato, probabilmente fa qualcosa per non incorrere nella sanzione. E quindi anche questo è una situazione molto particolare. Peraltro è anche accentuata dal fenomeno del randaggismo. Io ho evidenziato anche questo. Anche il fenomeno del randaggismo provoca gli effetti negativi da questo punto di vista. E quello ovviamente è un fenomeno che riguarda altre istituzioni. Non posso provvedere a quel fenomeno. Invece il vigile nel centro storico, che è una figura altrettanto ufficialmente istituita, c'è sempre? Assolutamente sì, ritornerà il vigile nel centro storico. Probabilmente avremo anche il vigile interprete, come lo abbiamo avuto negli scorsi anni. Nel senso che abbiamo la fortuna di avere una laureata in lingue fra gli agenti a tempo determinato. Che preferibilmente farà servizio proprio nel centro storico. Ma come va la collaborazione con le altre forze dell'ordine? Perché si parla sempre appunto di questo tavolo interforze. Assolutamente positiva. Da quando sono io, ho sempre cercato e ottenuto il dialogo con tutte le forze dell'ordine. Mi sento quasi quotidianamente con il dirigente della Polizia di Stato, il dottor Montaruli, che ha voluto tantissimo il progetto Ponsicurezza delle telecamere. Ho detto, ripeto, mi sento quasi quotidianamente con lui. Non dimentichiamoci che lo scorso anno, durante la festa patronale, per la prima volta il comando dei carabinieri ha predisposto l'unità mobile che si è situata in Piazza Quercio. Non era mai avvenuta una cosa del genere. Abbiamo avuto anche l'apporto della Guardia di Finanza, che ha messo a disposizione una pattuglia. Io penso che più di questo è difficile che si possa ottenere. Eppure, notizia di cronaca, proprio le ultime ore, c'è stato un arresto per droga in Piazza Teatro di un uomo che spacciava marijuana praticamente da tanto tempo, del quale molti avevano notizia, che molti avevano visto, che nessuno aveva denunciato. Perché poi si arriva a questo stato di cose? Nico, permettimi, siccome faccio anche l'avvocato prima di fare l'assessore in materia di Polizia Giudiziaria, non faccio nessun tipo di commento. Quindi non mi chiedo neanche il perché e il per come. Mi rimetto solo all'autorità giudiziaria, alle forze di Polizia Giudiziaria. Sono arrivate adesso, avranno avuto i loro motivi. Sulla banchina del porto cosa vi dite in questo tavolo interforze? Perché anche lì c'è un problema ormai atavico, la presenza di pescatori, ci sono attività forse legali, altre meno. Come si sistema quel problema che va avanti da tempo? Ci sono stati due grossi sequestri giudiziari nel corso degli ultimi anni. Però di volta in volta il problema si ripresenta. Il problema è anche legato alla nostra questione atavica con la sovrintendenza. Io quello che posso dire è che con le altre forze dell'ordine cerchiamo di tenere la situazione del porto la più legittima possibile. Poi se ci sono altre problematiche che non riguardano la mia ripartizione di questo non ne posso rispondere. So solo per esempio che con la Polizia di Stato e anche con i Carabinieri abbiamo raggiunto un'intesa secondo cui auspicchiamo che durante le ore notturne durante le quali noi non prestiamo servizio siano loro ad effettuare il controllo sull'area portuale e noi viceversa gli si possa dare una mano per altri loro servizi. Ricordiamo che uno dei servizi più importanti tra quelli che la Polizia Municipale svolge è quello della rilevazione degli incidenti. Da quando avete i capitani vi tocca 24 ore su 24, credo in questo caso, avere un'unità a disposizione per gli incidenti stradali. È così? 24 ore su 24 abbiamo la reperibilità, i nostri capitani hanno la reperibilità, però se voglio dire interviene durante le ore nottune la pattuglia della Polizia di Stato e dei Carabinieri provvedono loro a rilevare l'incidente stradale. Però da quando avete i capitani di quanto si è intensificato il servizio della Polizia Municipale sugli incidenti stradali? Di parecchio. Perché loro hanno tutti i poteri di Polizia Giudiziaria che prima non avevano. Assolutamente sì, si è intensificato di parecchio. E questo ovviamente porta ulteriori problemi per il resto del servizio a svolgere. Esatto, esatto. Con la carenza di unità che c'è. Sottrae ulteriore personale a quel poco che già ne abbiamo. Il piano del traffico, come va a integrarsi con i recenti provvedimenti adottati, con quelli da approvarsi? È stato approvato in Consiglio Comunale un piano urbano del traffico e della sosta. È ancora attuale alla luce di quello che si sta facendo? Assolutamente sì, è ancora attuale, è attualissimo anzi. Ti porto un esempio. L'ingegner Gadaleta, che è il tecnico incaricato dell'installazione dei varchi nel centro storico, ha visionato anche il piano del traffico, proprio perché non si vada in conflitto con il medesimo. Ma anche le zone pedonali sono in correlazione con il piano urbano del traffico. Io l'ho, tra virgolette, ereditato, nel senso che il piano urbano del traffico è stato proposto, elaborato e portato in Consiglio dal nostro ex assessore all'urbanistica. La materia della viabilità non è una delega che strettamente mi appartiene, ma anche se poi chiaramente di fatto la seguo, anche perché comunque è una delega in capo al sindaco, ma che di fatto seguo io. In quel piano del traffico ci sono due questioni abbastanza interessanti. La pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele, o almeno una parte di esso, e poi via Superga. Ma parliamo intanto di Corso Vittorio Emanuele. Procede quel progetto di pedonalizzazione? Sì, qualche tempo fa anche il nostro sindaco ha parlato di questo. Problema che però, dal mio punto di vista, siamo ancora lontani dall'arrivare a una pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele. Come disse il sindaco, pedonalizzazione con corsie preferenziali per gli autobus adibiti al trasporto pubblico. Siamo ancora lontani. C'è tanto da sistemare, creazione di posti auto, quindi aspetterei. Però lo spirito con cui i progettisti del piano lo redissero è legato proprio al fatto che il traffico dovrebbe scorrere soprattutto nelle vie periferiche. E in questo senso loro notarono subito l'anomalia di una via Superga che una volta alla settimana è chiusa per via di un mercato settimanale. Questa anomalia quando sarà risolta? Perché non dimentichiamo che il mercato è una sede provvisoria. Quando con lo sviluppo completo del Pug verrà destinata una idonea area mercatale. Quantunque l'ingegnere capo abbia dichiarato che nell'area torrente antico, che è quella naturale di destinazione, vi siano comunque dei problemi di carattere idrogeologico. Esatto, legati alla presenza della cosiddetta lama. E non c'è il rischio quindi che alla fine avremo una via Umberto, via Medeo bis per almeno 20-30 anni anche in via Superga? No, non credo questo anche perché è proprio di ieri l'ordinanza dell'ingegnere affattato che a seguito di una diffida ANAS ha dovuto ordinare, il sindaco peraltro ha dovuto ordinare lo spostamento di una parte dell'area mercatale proprio per problemi di sicurezza. Quindi sicuramente quella di via Superga è un sito provvisorio. Poi è chiaro che se dovrà essere allocato lì o da qualche altra parte sarà nell'ufficio tecnico a stabilirlo, previo studi approfonditi. Ultima domanda relativa all'installazione dei famosi T-RED. Procede? I T-RED no, assolutamente no, nel senso che di quella gara abbiamo, il dirigente ha sfruttato quella gara per l'installazione solo di impianti di autovelox fissi. Dove? E quindi non T-RED. Dovrebbero essere posizionati sulla strada statale 16 bis, ma uso il condizionale perché non è nulla di definitivo. Non in città? In nessun punto della città? Al momento no, non è nulla di definitivo. Io ho dato in carico a uno dei miei capitani di richiedere l'emanazione di provvedimento prefettizio anche su tutte le altre direttrici di marcia, di entrata nel territorio cittadino, tipo via Barletta, via Bisceglie, via Corato, anche perché noi abbiamo avuto una sola concessione di provvedimento prefettizio, peraltro stagionale, sulla strada provinciale Traniandria. Io ho chiesto che proprio a causa dell'alta densità di traffico e del fatto che su queste strade purtroppo accadono diversi incidenti stradali, alcuni dei quali molto gravi, ho chiesto che su tutte venga emessa l'ordinanza prefettizia, affinché proprio su tutte può essere a posto l'apparecchio di autovelox fisso. Bene, ringraziamo l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Paolillo perché ha tante domande, ha sempre fornito tante puntuali risposte e questo ovviamente gli ne diamo atto. Grazie a tutti voi, la videointervista ritorna fra una settimana e naturalmente con altri interlocutori istituzionali e non per conoscere tutti gli aspetti della nostra città qui negli studi di Radio Bombo. Grazie ancora, grazie e buonasera a tutti.